Inutile, costosa e soprattutto dannosa La nuova linea Torino-Lione è un grande progetto europeo che coinvolge Italia e Francia Un tassello fondamentale che renderà l'Europa più unita Collegando ad esempio la Spagna e il Portogallo all'est europeo E mi ricordo proprio un vecchio del viaggiante dove lavoravo io Che mi diceva, butenem le man en tlambin, cioè non andate a sbustiché, diceva lui Non andate a disturbare questo macigno Era un progetto sperimentale pagato dall'Unione Europea Progetto trasfrontaliero italo-francese Per provare a ridurre i tempi di spostamento del traffico su gomma Cioè dei tir, utilizzando il treno È stato un clamoroso insuccesso, non vorrei essere polemico ma nella sostanza è così Per provare a ridurre i tempi di spostamento del traffico su gomma